Il mio nome è Andrea Giulio Quarti e sono un dirigente medico dell'Unità Operativa di Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna. La cosa in assoluto più gratificante è avere la possibilità di lavorare con dei pazienti prevalentemente pediatrici, nonostante io opere anche i pazienti adulti, comunque la maggior parte del volume della mia attività consiste in cardiochirurgia pediatrica o congenita e lavorare con i bambini è molto molto gratificante perché l'interazione è molto più semplice. Ho deciso di diventare medico all'inizio forse per emulare mio padre perché anche mio padre medico quindi sono cresciuto in un ambiente nel quale la medicina permeava proprio casa e successivamente sono stato molto coinvolto dalla cardiochirurgia fin da subito, il mio training in cardiochirurgia è iniziato durante gli anni dell'università già dal terzo anno e la cardiochirurgia è molto adrenalinica ed è difficile rimanere immuni al fascino della cardiochirurgia e quindi poi è la passione appresa al sopravvento. In primis proprio adrenalinico, la cardiochirurgia è adrenalina pura, soprattutto durante l'intervento. Al secondo posto direi affascinante perché gli interventi cardiochirurgici sono gli unici interventi sul corpo umano, su un organo in movimento, quindi è una cosa che ho trovato sempre molto molto affascinante e al terzo posto direi è molto interessante. Gli interventi di cardiochirurgia sono molto molto vari, soprattutto per quel che riguarda la cardiochirurgia congenita nella quale noi cerchiamo di correggere delle anomalie strutturali del cuore cercando di dare una fisiologia della circolazione che sia il più normale possibile.